Gli errori più eclatanti sono stati diversi tradimenti nel nostro percorso. I tradimenti che poi fondamentalmente Gaia conosce sono stati tre, però nel corso della nostra conoscenza, relazione eccetera ce ne sono stati diversi. Il motivo per cui tradisco, credo, presumo ad oggi che è quello che penso sia scaturito da un bisogno più fisiologico, naturale. Per un ego personale forse è la voglia di piacere, semplicemente quello. Spero non sia altro, più fondamentalmente spero che non siano altri motivi per cui magari purtroppo mi è capitato di tradire. Questa attrazione fisica nei confronti di altre donne che sono venute fuori, ad oggi l'ho gestita sicuramente male, perché se poi sono arrivato a fare quegli errori, quindi a tradire, perché evidentemente non sono capace di gestirla come si dovrebbe, come si pensa, insomma, che si debba fare quando si intraprende una relazione. Ho paura sicuramente che qualche ragazza possa uscire fuori magari dal nulla, magari averla dimenticata o nel tutto il percorso qualcuna che si sveglia oggi e dice, ah sono stato con Luca, sì c'è, probabilmente c'è la paura. Dispersa! Grazie a tutti!